Ciao! Cosa significa portare buona frutta? Perché l'Angelo parla che possiamo riconoscere profeti che portano buona frutta. Immaginando questo ho pensato che cosa è frutto? Frutto è qualcosa che possiamo mangiare, insaziarsi, qualcosa che così soddisfano i bisogni. Quindi il profeta, forse tutti siamo in certo senso profeti perché siamo per quello battesati, portiamo le frutte quando vediamo che i bisogni delle persone che noi circondano sono in qualche modo soddisfatti. Quindi il buono profeta cerca di riconoscere cosa la gente ha bisogno, cosa queste persone che sono intorno a me hanno bisogno e cercare di fare un passo verso queste persone. Cosa pensi tu? Cosa per te è portare buona frutta? Ciao!